Buongiorno da Stefania Bonomi sabato 22 luglio benvenuti al primo appuntamento con l'informazione di Fano TV. Come tutte le mattine vediamo che santo festeggiamo oggi. Oggi si festeggia Santa Maria Maddalena di Scepola. Maria Maddalena apostola degli apostoli liberata dal male è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come colui che ha vinto la morte. La festa di questa santa che ha seguito Cristo fino al Calvario si celebra proprio oggi ossia 22 luglio e quindi auguri naturalmente a tutte le Maddalene e anche Magdalena e andiamo a vedere le previsioni del tempo. Purtroppo o per qualcuno anche per fortuna questo caldo continua a mantenersi. Infatti la situazione è il tempo nel complesso è stabile con locali disturbi nelle aree interne di poco conto. Le temperature sono in calo, leggermente in calo, venti deboli e moderati. Oggi la temperatura si aggira sui 33 gradi, domani 34 gradi, arriveremo a lunedì addirittura ad avere 36 gradi per arrivare a mercoledì con 38 gradi e scendere poi di nuovo verso i 32. Il sole oggi è sorto alle 5.45 e tramonterà alle 20.41. E noi come tutte le mattine, questa sarà l'ultima mattina che saremo in collegamento con lui, andiamo a salutare Ivano Biasiolo dei Bagni Marino 1958 di Numana. Buongiorno Ivano, che splendida giornata. Buongiorno. C'è un cielo oggi. Eh sì, oggi viviamo nell'azzurro. Bellissimo. Per fortuna. E per il momento sembra che vada avanti così, ancora non ci abbandona, meglio perché comunque d'estate poi ci lamentiamo sempre se no. Allora Ivano dove si trova? Ha cambiato posizione stamattina? Sì, oggi vi volevo un attimo dare uno scorcio delle nostre strutture che abbiamo completamente rinnovato quest'anno. Abbiamo fatto ristorante completamente nuovo, una terrazza completamente nuova, un gazebo esterno dove accogliamo i nostri avventori la sera completamente nuovo e dietro di là, se vedete, aspetti che mi giro in modo giusto, ecco, là dietro abbiamo anche, apriremo anche 10 stanze d'albergo. Ah, quindi diventerà, cosa farete? Un bed and breakfast? No, faremo proprio un albergo quattro stelle. Ah, proprio un hotel, quindi con pranzo e cena? Per chi vuole sì, trattamento pensione completa, mezza pensione o eventualmente solo colazione. Bene. Senta Ivano, oggi volevo parlare un po' con lei, visto che è sabato, andiamo verso il weekend, alleggeriamo un pochino, diciamo, le notizie. Volevo parlare un po' di lei di moda mare, ossia… Moda mare. Moda mare, cosa è cambiato? Maschile o femminile? No, direi che possiamo trattare entrambi, perché no, sennò andiamo sempre sulle donne, invece moda mare. Proprio volevo un po' sapere che tipo di costumi vanno in questo momento, come arrivano le signore o i signori. Una volta, per esempio, per l'uomo c'era il boxer, adesso magari va più lo slip. Cioè, mi dica lei. Allora, fondamentalmente la moda maschile non cambia in maniera così categorica, no? Quindi boxer e slipini si continuano a vedere. Più che altro cambia la moda femminile. Allora, c'è qualche anno in cui va il costume intero, poi va il bikini, poi va il bikini coprente. Adesso diciamo che vanno di più i costumi poco coprenti, per avere un'abbronzatura non dico a 360 gradi, ma diciamo a 320, ecco. Siamo tornati quindi un pochino indietro, perché fino a qualche anno fa addirittura proponevano costumi ancora tipo modelli anni 60, quando la donna si copriva abbastanza, diciamo con lo slip piuttosto importante. Esatto, esatto. Adesso diciamo che si prediligia di avere un'abbronzatura quasi totale, quindi diciamo che i costumi... Guarda, no, no, mi dica, mi dica. Sono poco coprenti, insomma, ecco. E i colori? Ma i colori, quest'anno va bene il rosa, va il viola, va qualcosa di verde, però diciamo che l'estate, diciamo che fa esplodere la fantasia, ecco, quindi si vede qualsiasi cosa. Ma siamo più sulla tinta unita o sul floreale? Sulla fantasia. Sulla fantasia. Quest'anno vanno i fantasia. Sì, sì, sì. Benissimo, allora Ivano, abbiamo fatto veramente delle grandi belle chiacchiere in questa settimana, abbiamo fatto conoscere ai nostri telespettatori un'altra parte delle marche e a questo punto noi la salutiamo, le auguriamo un buonissimo fine settimana e io verrò sicuramente a trovarla. Cara Stefania, ringrazio voi, ringrazio tutti gli stessi telespettatori di Fano TV, vi invitiamo solo a venirci a trovare e a provare la Marino Experience. Grazie mille, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. E siamo arrivati alla nostra rassegna stampa. Partiamo subito con il Corriere Adriatico. Prima pagina del Corriere Adriatico. Discarica all'accordo segreto esclusivo. MMS si è impegnata a versare 25 milioni per acquisire da Eco Servizi il 100% di Aurora. Dopo il primo 40% sottoscritto il contratto per altri due step. Svegliamo a quali condizioni e prezzi. Fotonotizia centrale. Chicchi di 6 centimetri colpita la Val Cesano. Grandinata, violenta e improvvisa. Questo si è verificato ieri. Ed ancora abbiamo le brevi di cronaca. Pesaro, il piano socio-sanitario non sarà realizzato. Ancora Pesaro, emergenza casa via al bando di aiuti per 750 famiglie. E a Urbino, scuole superiori, maggiori risorse partono gli appalti. Ragazzini con il coltello rapinano in un benzinaio. Paura al distributore sulla strada della Romagna. L'uomo rimasto leggermente ferito ad un fianco. Primo piano Marche, SOS eventi estremi. Ecco il piano clima per essere pronti. Le Marche sono la prima regione in Italia a dotarsi di questo strumento. L'assessore Aguzzi, ora impariamo ad adattarci alla nuova normalità. Ed ancora, sempre in primo piano a Pesaro, lo ritroviamo dalla prima pagina. MMS, operazione 25 milioni. Ecco l'accordo tenuto segreto esclusivo. Tanto dovrà essere pagato a Eco Servizi di San Marino per la società della discarica di riceci. Dopo il primo 40%, il contratto firmato prevede altre due fasi per oltre 21 milioni da versare. Ed andiamo a vedere subito le notizie che riguardano la città di Fano. In prima pagina la città rivolta al futuro via il 27% di residenziale. Il vice sindaco fanesi ha completato nella zona centro la presentazione del PRG. Con la presentazione della bozza del PRG dell'area urbana alla città si sono conclusi gli incontri programmati dall'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi per illustrare le previsioni ma anche per raccogliere osservazioni e commenti da parte dei cittadini. Il nostro intento, ha dichiarato Fanesi, è stato quello di far conoscere, far vedere da vicino come cambia la città. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutte le fasce del nucleo urbano. Abbiamo l'ambizione di delineare le linee guida per poter costruire una città che guarda al futuro. Una città più bella, moderna e dinamica. Una città che persegue il benessere della comunità tramite il nuovo sviluppo equilibrato e sostenibile. Passeggi a settembre il progetto esecutivo. L'assessora Brunori spiega l'approccio condiviso con i bambini. L'assessore ai lavori pubblici rassicura sia i partiti di opposizione sia i cittadini che hanno rilevato problemi di sicurezza all'interno dei passaggi dicendo che il progetto di riqualificazione del parco pubblico sta procedendo tra e tra breve si passerà alla fase esecutiva. Trasformare le idee fantasiode dei bambini in immagini reali non è una cosa semplice. Ecco perché la fase di redazione ha richiesto il suo tempo ma ormai siamo giunti alla fase risolutiva. E vediamo sempre a Fano il cantiere Wider operativo con l'arrivo dei catamarani. sono giunti due esemplari a propulsione ibrida presto ne arriveranno altri tre. Il sottopasso di Viale Cairoli devastato dai vandali danneggiati i pannelli che decorano le pareti. E sempre in Val Metauro Lupini era un uomo gentile voleva tornare a Chiaravalle questo il cordoglio per l'incredulità a San Martino del Piano per la morte del 75enne in un incidente. E' quello che penso anch'io. Restiamo in Val Cesano Chicchi di Grandine di 6 cm Caverni non c'era l'allerta meteo Serra, Sant'Abbondio il centro più colpito Raffiche anche a Frontone Cagli Pergola e Cantiano Questo è il maltempo una mezz'oretta d'inferno che ha provocato danni ingenti Non c'è pace per le terre del Catria che dopo l'alluvione sono state colpite ieri da una violentissima grandinata palline del diametro di 5-6 cm si sono abbattute su autovetture abitazioni e terreni coltivati L'area più colpita è stata quella di Serra, Sant'Abbondio Frontone, Cagli e in parte Pergola e anche Cantiano Ci spostiamo a Senigallia e c'è allarme rosso assalto alle scogliere scatta il giro di vite troppi rischi La guardia costiera sono coperte di alghe e si può cadere nella parte opposta rispetto alla riva Le scogliere prese d'assalto dai bagnanti in queste torri dei giornate estive ma ricordiamo tutti che le scogliere poste davanti agli stabilimenti balneari sono assolutamente vietate i bagnini di salvataggio non fanno altro che fischiare per richiamare chi si avventura per una tintarella alla spericolata perché è facile scivolare e chi si tuffa può veramente rischiare la vita La superficie delle barriere è ricoperta di alghe quindi è scivolosa ma può verificarsi anche una caduta all'interna con perdita di conoscenza o in acqua nella parte posteriore che naturalmente i bagnini da lontano non riescono a controllare quindi mi raccomando rispettare queste regole Restiamo sempre a Senigallia rimborsi per i danni dell'alluvione un mese in più per fare domanda scadenza al 31 agosto per importi fino a 5 mila euro per gli altri chiesta una proroga al 30 ottobre prorogato al 31 agosto il termine per le domande dei contribuenti privati fino a 5 mila euro mentre il sindaco ha chiesto più tempo per quelli che li superano la scadenza del 9 agosto è troppo vicina il vice commissario Babini ha infatti comunicato quello come termine perentorio per presentare la domanda corredata da perizia redata da un tecnico di fiducia per chi ha subito danni dall'alluvione che superano i 5 mila euro si ricorda che i documenti da compilare e presentare sono nel sito comunale vediamo anche velocemente due notizie di sport la vice in Trentino e subito il Monza da oggi la preparazione a San Lorenzo d'Orsino domani il test con i Brianzoli agli ordini di Mister Banchieri anche gli under neri da Pozzo Diop e Peixoto ed ancora Fano giorni d'ansia per la C ma occhio alle contendenti lunedì il Consiglio federale la speranza è di ritrovarsi in vetta alla graduatoria delle ripescabili della serie D chiudiamo il Corriere Diatico e ci spostiamo invece al resto del Carlino vediamo subito in prima pagina Novilara frontale da paura una smart vola sulla scarpata gravi i due conducenti ed ancora sempre in prima pagina provincia 63 milioni per le scuole Fano demolizione e ricostruzione del Nolfi nuove palestre per Urbino e Pesaro le gare sono tutte entro la fine dell'anno la fotonotizia è dedicata invece al fratello di Valentino Luca Battevale primo all'altare il fratello del doctor anche lui pilota di MotoGP ha detto sì alla sua Marta ed ancora grandinata record i chicchi spaccano auto e tavolini e in fondo pagina Delfino ultimo tango lascia dopo tre stagioni e vis test sulle Dolomiti c'è il Monza di Palladino pauroso frontale tra auto gravi due conducenti è successo ieri sera a Novilara feriti un uomo e una donna pesaresi lui è al Sal Salvatore lei con l'elissoccorso ad Ancona il traffico è rimasto in tilt per un'ora intera due feriti autodistrutti traffico bloccato per quasi un'ora grave incidente ieri sera verso le 19.30 sulla strada per Novilara poco dopo la residenza sanitaria Galantara in una curva si sono scontrate frontalmente una Smart e una Fiat Panda un urto così forte da far ruotare la Smart fatta da 180 gradi facendola finire su un greppo al lato della strada al volante della prima c'era una donna pesarese che nell'impatto avrebbe riportato diverse fratture gravi anche le ferite riportate dal conducente della Panda un pesarese che stava arrivando nella direzione opposta nell'urto il pesarese ha riportato diversi traumi e fratture al torace alla rotula al porso e forse anche in altre parti del corpo ci spostiamo sulle pagine di Fano musica droga le fiamme gialle setacciano tutti i locali controlli a Fano e Mondolfo sono scostate e scoperte numerose irregolarità ma anche due denunciati per cocaina e hashish movida nel mirino ma anche contrasto allo spaccio di droga lavoro nero violazione del codice della strada e del diritto d'autore dal tramonto all'alba gli uomini del comando provinciale della guardia di finanza di Pesaro sono entrati in azione e hanno passato al setaccio locali parchi pubblici stazione ferroviaria di Fano e Mondolfo proprio e hanno perlustrato tutte le principali arterie del litorale due denunce per possesso di cocaina e hashish sono stati due uomini scoperti anche grazie al fiuto dei cani delle unità cinofile delle fiamme gialle sei invece gli esercizi pubblici controllati nei quali sono stati rilevati due lavoratori in nero mentre per dodici ancora in corso l'attività di approfondimento e sei sono gli altrettanti titolari di esercizi pubblici denunciati alla procura di Pesaro per violazioni della normativa sul diritto d'autore per aver fatto musica ma senza l'autorizzazione proveniente dalla SIAE ed ancora a Fano TECFEM mette il cuore in cassaforte check up cardiologico ai dipendenti presentata l'iniziativa di prevenzione che coinvolgerà 130 lavoratori nelle sedi di Fano e di La Mezzia Terme così si chiama l'iniziativa ti abbiamo a cuore è il progetto di prevenzione cardiovascolare promosso da TECFEM azienda di ingegneria per i suoi dipendenti distribuiti tra le sedie di Fano e La Mezzia Terme l'attività di prevenzione è rivolta alla fascia dietro tra i 40 e i 69 anni e pertanto per quanto riguarda l'azienda ne potranno beneficiare circa 130 dipendenti 30 a Fano 15 a La Mezzia Terme e 85 in altri cantieri la seconda fase darà la possibilità ai dipendenti di sottoporsi all'analisi del sangue e se necessario anche ad un elettrocardiogramma gli esami saranno eseguiti in centri medici convenzionati uno e Fano e l'altro a La Mezzia Terme nel progetto ha preso le mosse dai drammatici dati sulle morte collegate alle patologie cardiovascolari in Italia pensate responsabili del 34,8% di tutti i decessi restiamo ancora Fano due anni dopo il sottopasso arriva l'ascensore a Marotta l'impianto in Piazza Roma debutta oggi Tiritiello sarà in funzione 17 ore e mezza al giorno e avrà telecamere all'interno finalmente finalmente ci siamo questa mattina entreranno in funzione gli ascensori del sottopasso cicopedonale alla ferrovia di Piazza Roma nel centro di Marotta le corse inizieranno dalle 7.30 in punto e proseguiranno fino alla una di notte ed ancora l'evento Rebel House sarà Morgan il superospite appuntamento il 17 agosto all'anfiteatro romano di Suasa organizza la casa culturale di Pergola sarà Morgan uno dei grandi protagonisti di Arena Rebel House la giornata di spettacolo organizzata proprio da Rebel House per il 17 agosto nell'anfiteatro romano di Susa nel territorio di Castelle Leone ed ancora siamo a Durbino questa camera mortuaria è indecorosa la protesta di un cittadino che l'ha frequentata l'ospedale di Urbino ha seguito scusate la protesta di un cittadino che l'ha frequentata all'ospedale di Urbino a seguito di un lutto manca anche il bagno per i visitatori la camera mortuaria dell'ospedale di Urbino rattrista anche chi non ha subito alcun lutto le condizioni esterne e interne del locale che ospita le salme di chi si spegne nel nosocomio urbinate sono purtroppo pessime e l'hanno notato tutti coloro che nell'ultimo periodo hanno dovuto recarvisi a causa della perdita di un congiunto manca totalmente la privacy e i familiari devono fare a turno per rimanere vicini al proprio caro ed ancora grandine come pietre dal cielo ancora danni sotto il monte Catria la preoccupazione del sindaco di frontone Tagnani si aggiungono nuovi problemi a quelli già precedenti dopo giorni di un caldo affoso nel pomeriggio di ieri in tutto il Cagliese si è abbattuto verso le ore 15 un violento temporale con grandinate sparse con grossi chicchi che hanno causato anche ingenti danni la zona più colpita è stato il versante nord del massiccio del Catria acuto tra Fontone e Serra Santa Bondio con diverse auto che hanno subito danni per le grosse palle di grandine oltre a coltivazione agricola ancora in campo come le superficie a grano qua ci sono poi le foto che fanno evidenziano le dimensioni della grandine un tavolo di plastica forato dalla grandina sotto le auto con il tettuccio è stato un disastro si sono spaccati i vetri quando la grandine diventa così grossa che arriva ad essere ad avere delle dimensioni che sono come quelle di noci purtroppo fa veramente dei danni ingenti e andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con l'inizio della Fano Jazz by the Sea 2023 e ora del ritmo è l'ora delle band si inaugura oggi la 31esima edizione del festival già dalla mattinata il trascinante sound della P-Fanking Bang appuntamento serale alla rocca malatestiana con Gianluca Petrella dai suoi Cosmic Renaissance si parte stamattina alle 11 con la trascinante P-Fanking Bang inserata alla rocca malatestiana alle ore 21 e 30 un irresistibile mix di suoni ritmi e colori sarà anche al centro del concerto del trombonista Gianluca Petrella e dei suoi Cosmic Renaissance sempre oggi via anche al Jazz Festival Jazz Village ore 19 e 30 con il quintetto del sassofonista Antonio Ottaviano mentre per Cosmic Journey alle 23 saranno i Real Timpani ad accompagnare il pubblico verso la notte immancabile appuntamento all'alba di domenica vi ricordiamo alle ore 5 all'anfiteatro Rasta Tat con il pianista Alessandro Sgobbio uno dei più interessanti talenti del nuovo Jazz italiano abbiamo visto la rassegna stampa io con questa notizia vi saluto vi invito naturalmente a restare sempre su Fanop TV per vedere i nostri programmi l'informazione con i giornali torna lunedì con il collega Massimo Foghetti vi auguro una buona giornata arrivederci a presto Grazie a tutti.